guarda chiamo subito perchè ne combini sempre una più de 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 pronto salve si sono già come esatto vuole il numero identificativo lo sa già bene senta è successo un problema mia moglie c'ha il vizietto di fare lo sport lo so che è sconsigliato dal governo stare in salute ma lei non mi ascolta va dal vicino qua e fanno insieme pilates e fai un giorno fai due è successo patatrac è rimasta incinta non so che ne roba grave è una malattia questa qui della gravidezza che gravidanza pensavamo di averla debellata non aver più rischio come come è possibile che se sia malata così vabbè i dettagli guardi possiamo perdere insomma ma è contagioso magari pensava viene giù la pancia si vomita ah no non è contagioso beh almeno quello sento adesso cosa facciamo perché non sapeva cosa fare noi qua ci sono più possibilità perché dice che comunque un bambino può essere utile al governo cosa fa esperimenti ho capito quanto dura sta malattia qua quanti giorni nove mesi ma insomma una malattia gravissima ma si muore adesso non si muore più almeno quello ma poi sto bambino quant'è che dobbiamo tenerlo per vent'anni ma come vent'anni vent'anni ma neanche un cane vive vent'anni sono tanti ci abbiamo qua a bel zebul nostro ne ha 7 8 ma insomma è vecchio a perché dice che gli esseri umani possono vivere tantissimo e noi dobbiamo tenerlo almeno 20 ma poi mi hanno detto questi bambini e sono fastidiosi fa rumore ma quanto sono fastidiosi di più dei vicini con reggaeton ma perché sennò non lo sposto ma poi com'è che funziona questo bambino c'è un manuale di istruzioni non c'è niente bisogna arrangiarsi non sono dei corsi per fare come si dice i gentitori i genitori insomma io non ho mai sentito questa roba qua non c'è un corso ma insomma anche voi come mai non siete organizzati ma perché è una pratica in disuso ma certo con i bambini in laboratorio è venduto molto più facile scegliamo i geni giusti alto magro grasso ma il grasso non li vuole nessuno vabbè però si può scegliere invece questo qua come vieni via ma guarda che una roba una volta come facevano ma io non so poi sto bambino com'è che funziona cioè alla sera si spegne con un bottone perché noi lo possiamo mettere in un cassettino qua c'è posto oppure in garage ha deve vivere con noi sempre cioè come il cane proprio beh non posso mica metterlo al posto del cane c'è al suo letto la sua stanza lui e i cani sono i cani scusi questo è solo un bambino non si spegne bisogna tenerlo vent'anni fare umore che lati positivi ci sono ah ci date dei soldi mi interessa mi interessa maria vi qua che parliamo con un corso